Per cortesia! Il subappalto gestisce la pulizia delle stanze comunali con la Romeo Gestioni S.p.A. che ha firmato l'accordo con i commissari prefettizi battipagliesi lo scorso 2014 con un contratto fino al 2021. Proteste e vehementi da parte del consigliere Giglio Mir e soprattutto Gerardo Motta. Questo è scandaloso. 5 euro in busta paga e nessuno interviene. Il contratto va risolto ad Oras. La sindaca Giglio Francese ha annunciato di riscindere il contratto. Lo sottoporremo all'ufficio avvocatura. Domani dovrebbe essere confermato l'incontro con sindacati provinciali, sindaca e lavoratori.